Dunque, io mi auguro che l'esperienza di Marino sia conclusa, così come l'esperienza del PD romano in Consiglio Comunale. La Lega con la lista, noi con Salvini, ovviamente sarà presente alle elezioni, ci confronteremo anche noi con l'elettorato e lì vedremo se effettivamente saremo stati bravi ad allargare il nostro consenso elettorale. Però quello che a me interessa in questo momento dire è che sicuramente, come diceva anche l'esponente radicale, Roma non ne può più di essere vittima da una parte del velitarismo di un sindaco marziano che il PD ha trasformato nell'ultimo giapponese e dall'altra di una guerra interna al Partito Democratico che ha visto in Marino l'alibi per nascondere l'incapacità amministrativa, gestionale ma soprattutto politica di un partito che si è sempre retto a grande partito capace di poter risolvere i problemi di Roma ma che di fatto ha dimostrato tutte le sue debolezze. Detto questo ci auguriamo che Marino però vada in aula perché lo voglio dire con estrema carezza cioè i problemi interni al PD si possono risolvere nella sala del Nazareno o a Palazzo Chigi da Renzi questo è un problema che riguarda un'istituzione e il rispetto delle istituzioni fa sì che la crisi politica e le dimissioni di Marino debbano essere affrontate nella sede del Consiglio Comunale che è la casa dei cittadini di Roma.